Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per fare l'unboxing di Loot Crate a tema marzo, che se non sbaglio era a tema versus. Quindi come al solito bando i combinevoli e andiamo subito a scappellare la nostra bellissima box. Quindi apriamo col magico tagliorino e andiamo a vedere cosa offre questa box a tema versus. Ok, niente roba strana come nelle altre, ma vediamo. Allora, direi di iniziare subito dalla maglietta che ha dei bellissimi spock, ma sta maglietta che cazzo di Italia è? No, scusate. Ma porca troia, mi hanno mandato una L da donna, tanto c'è già un filetto volante. Cioè io cosa ci infilo qua dentro? Il braccio? Eh, scusate. Porca puttana, guarda che... Io ci infilo... Dove ci fa la testa ci infilo praticamente il braccio. Minchia, questa è una figa. La dovrò regalare in giro. Comunque questa era la maglia di Spock. Ho scritto Mirror Mirror, ci sono i due Spock, quello col pizzettino e quello normale. Fanculo. Fanculo. Dunque, poi vediamo... Cos'è sta figata? Un cappellino di Daredevil, che tra l'altro è reversibile. Nooo! No ragazzi, così sei Daredevil. Tra l'altro pure è abbastanza comodo. Minchia, sembro Eminem, tipo... Yo, yo, yo. Comunque se vi fa schifo Daredevil e volete essere più violenti e ammazzare la gente, basta rigirarlo al contrario e indossarlo dal lato del punitore. Veramente figo. No, me lo tengo così, suderò come un animale, ma va bene, lo stesso. Poi, cos'è sta roba? Allora, qui è la locandina di Batman v Superman. Cos'è sto coso? È un portafoglio fatto con la carta riciclata. Tra l'altro dentro ci sono banconote finte. Ok, questo non è che l'abbia capito moltissimo. Sì, penso comunque sia un portafoglio fatto con la carta riciclata. Cioè, sta roba, se io la usassi seriamente, mi durerebbe tipo due minuti e mezzo, perché io i portafogli li distruggo abbastanza, sapete. A tenere tutta sta quantità di soldi esagerata? No, non è vero, però tenendoli in tasca, sedendoci sopra. Ok, boh, non l'ho capito questo molto, ma va bene. Poi abbiamo la spillettina del mese di marzo, che era appunto versus, con Alien vs Predator. Ricordo che inserendo poi la spillettina nel vari sito sbloccherà roba online, tipo contenuti aggiuntivi, bla 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 bla. Lootcray presenta World Gush download free, penso che questa sia la pubblicità a caso di un gioco, di un'applicazione, World Crush. Ok, vaffanculo. Poi, infine, abbiamo gli ultimi tre oggetti, quindi direi di vederli. Abbiamo un fumetto della DC Comics, il numero uno di Harley Quinn, con la cover variante di Lootcrate. Questo qua magari non lo apro, anche perché il numero uno in inglese di Harley Quinn l'avevo già preso quando ero andato a Londra. E infine abbiamo il libretto magico, solito, ripilogativo, con varie rubriche dentro, che ti fa vedere cosa hai trovato all'interno della box. E infine, la cosa più succosa e goduriosa, abbiamo questa, ovviamente oltre alla scatola, che poi rigireremo e vedremo come esce, però si vede già che penso sia la foresta di Alien vs Predator. Abbiamo i Titans Vinyl Figures, che sono queste statuine a tema dei vari film, telefilm, appunto, che vendono in giro. Io avevo preso quella di Doctor Who, dove ho trovato il piccolo TARDIS a Forbidden Planet di Londra. Tra l'altro voglio far vedere come la scatola si ha in condizioni pessime, tutta distrutta, qua incollata, storta. Quindi, tra l'altro, puoi trovare diverse cose, tra cui il replay, l'alien, l'uovo, il facehugger, e i vari personaggini vari. Sinceramente, spero di trovare l'alien o il facehugger, perché gli altri personaggini vari non è che mi ispirino tantissimo. Ma è enorme questo, è veramente grosso. Allora, fatemi tastare. Cazzo sì, ho trovato il Predator. Ho trovato il Predator. Dimmi che ho trovato il Predator, sì. Sembra proprio il Predator. Non voglio vedere. Sì, sì, è il Predator. Sento il Dread. E lui? Sì! Fighissimo, cazzo. E andiamo, mi è andata di culo una buona volta. Qualcosa di decente. Tra l'altro, è veramente figo e grosso. Io, quello che ho io, era la versione più piccola, infatti il TARDIS è grosso così. Cazzo, questo è veramente figo. Molto, 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 molto figo. Tra l'altro, mi sta venendo il dubbio. Oh, ma c'è anche questo! Mi stavo perdendo... Dai! Mi stavo perdendo l'asticella, la lancia da combattimento del Predator. Adesso devo montarlo obbligatoriamente. Tac! Madonna! Questo, ragazzi, è top, top. Veramente figo. No, mi sta venendo il dubbio che non è che potete trovare solo questi due, perché di solito, nelle ultime scatoline, potete trovare solo quei due lì. Sì, infatti. Penso che tu... Che chiunque si possa trovare solo o il Predator o l'Alien. E niente, mi aspettavo qualcosina di più figo da Batman v Superman, sinceramente. Però va bene così. Questo buttiamo via tutto e mentre vi rigiro questa scatola, se ce la faccio in tempi brevi... Tadam! Comunque, stavo dicendo, nel caso vogliate acquistare la prossima loot crate, vi informo che sarà tema quest, con gadget da Labyrinth, Harry Potter, Vikings e soprattutto Uncharted 4. Io, sinceramente, ho un hype esagerato, se ci sia almeno la maglietta di Uncharted 4 e magari una pop loot crate esclusiva di Harry Potter. O, nel caso non ci fosse niente del genere, mi ha contenuto anche di una bambola gonfiabile di Hermione. Comunque, nel caso volete acquistare, vi lascio il link qui sotto in descrizione e inserendo il codice NMP avrete un succoso 10% di sconto che non fa mai male. Quindi, ragazzi, spero che questo unboxing vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate, tra tutte le cose che ho trovato. Dove cazzo è il mio Predator? Gli è finalmente mi è andata di culo per una volta, anche se l'aglia non era malaccio, anche quello. E niente, questo video è finito, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi su Facebook, seguitemi sui social, seguitemi per strada, uccidetemi, insomma, fate quello che volete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!